Sabato 3 giugno al ristorante La Giara di Pesaro verrà fatta la finale regionale del concorso internazionale di bellezza Miss Grand International Italy 2023. Siamo nelle Marche, quindi regione Marche. Perché? Perché cercheremo di portare delle ragazze, le più meritevoli in un qualche modo, le più gettonate, quella che la giuria riterrà più opportuno, le porteremo in finale nazionale. Abbiamo due categorie, le mascotte 13-17 anni e invece le Miss Grand che hanno 18-28 anni. Per le mascotte, come si dice, l'avventura in un qualche modo finisce al nazionale. Mentre per le grandi, chi va al nazionale saranno due ragazze, avranno l'opportunità di giocarsi il mondiale. Perché ad ottobre partiranno per il mondiale. Avremo una cena spettacolo con un'anteprima di una degustazione di una cantina molto importante, Biagi Vini, quindi con le sue bollicine. Poi partiremo con la cena ottima della Giara, perché come sempre la cucina della tradizione sono sempre all'avanguardia per quanto riguarda gli eventi, sia culturali, di divertimento, per la famiglia, così. E quindi ci fa piacere che abbia ospitato questa serata.